Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Ragazzi, il secondo episodio di Crisi sulle Terre Infinite a me è piaciuto un sacco, un sacco, un sacco, e adesso vi vado a dire perché. Prima di cominciare però vi invito a vedere i miei video precedenti su Crisi sulle Terre Infinite, crossover che si svolge nell'Hurroverse, l'insieme di serie televisive che fanno parte del network CW, che comprende Arrow, Flash, Batwoman, Supergirl e Legends of Tomorrow. Vi consiglio sempre anche di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di commentare, di condividere il video con tutte le persone che conoscete, che possono apprezzare quanto sto per dire. Il secondo episodio di Crisi sulle Terre Infinite si svolge nella stagione 1 di Batwoman, quindi è molto incentrato su Batwoman, ma anche comunque sul mondo di Superman. Ed è qui che abbiamo visto finalmente la ciccia che io stavo aspettando. In generale, anche se parte di questo episodio appunto non è solo rivolto verso Batwoman, ma anche verso Clark, Lois e Iris West, che appare dal nulla per cercare un Superman alternativo, comunque in tutta la puntata, in tutto l'episodio, c'è questo clima molto dark, tipico delle avventure del Cavaliere Oscuro. Allora, sappiate che adesso inizierò a spoilerare, quindi ok? Allora, innanzitutto l'episodio si divide in due grosse parti, la parte in cui Batwoman e Supergirl consolidano la loro amicizia, che ci ricorda molto l'amicizia storica tra Clark Kent e Bruce Wayne, tra Batman e Superman, qui contrapposta al femminile, e vanno alla ricerca di un campione, il campione del coraggio, perché Monitor ha scoperto che, dopo che appunto purtroppo Oliver Queen, Grinarro, è morto inaspettatamente anche per Monitor nel primo episodio, allora Monitor si è dato da fare per cercare altri campioni e ha scoperto dal libro del destino che ci sono altri campioni da trovare. Il campione del coraggio, che pare sia probabilmente un Batman di qualche terra, e il campione della verità, che molto probabilmente è un Superman di qualche terra alternativa. Scopriamo anche in questo, sempre in questo episodio, che c'è un campione della speranza, che è già a bordo di questa ciurma, che è proprio Supergirl, anche se proprio in questo episodio di speranza pare che non ne abbia, dato che ha perso Oliver, ha perso tutta, quasi tutta Terra 38, ma la riacquisterà comunque alla fine dell'episodio, quantomeno un pezzettino. La seconda parte, la B-stories di questo episodio, ci fa vedere quello che tutti speravamo, ovvero più di un Superman. Finalmente vediamo il Clark Kent di Smallville, come tanti di noi speravano. Purtroppo, anche in questo caso, è un cameo un po' fine a se stesso, un po' per accontentare i fan di Smallville, un po' per accontentare il fatto che si vendono delle terre alternative che sono davvero esistite nella televisione statunitense. Perché dico questo? Perché io speravo che comunque Tom Welling indossasse di nuovo la calzamaglia azzurra che ha indossato solo nell'ultimo episodio della decima stagione di Smallville. E invece, e invece, resta Clark Kent. E questo, ragazzi miei, ha un significato molteplice, nel senso che resta Clark Kent per tutta la durata della sua comparsa in questo episodio, in cui si vede anche Lois Lane, la Lois Lane di Smallville. Ma resta Clark Kent anche perché scopriamo che il Clark Kent di Smallville ha rinunciato ai suoi poteri. Non è nulla di nuovo, lo abbiamo già visto in Superman 2, quello con Christopher Reeve, ha rinunciato ai suoi poteri per amore, in questo caso non solo per amore di Lois, ma anche per amore dei suoi figli. Pare che abbia, si suppone, un figlio maschio, perché vediamo un piccolo giocattolo a forma di Gru, e un paio di gemelline femmine. Questo perché anche nei fumetti ci sono delle versioni alternative di Superman, in cui in una versione hanno un figlio maschio, che si chiama Larry, mi sembra, in un'altra versione hanno un paio di pargoli, adesso non so i nomi, non ho letto questi fumetti, ho letto il compendio di Crisi sulle terre infinite, la versione fumettistica. Poi magari ve la metto in descrizione, così vi fate una cultura pop, se siete così interessati all'origine di questo crossover. Quindi cosa succede? Appunto che vanno a trovare questo Superman, alla ricerca di questo campione della verità, ma scoprono che questo Clark Kent ha rinunciato ai suoi poteri. E quindi finisce il cameo di pochi minuti, purtroppo, ma presto, presto si va alla ricerca di un altro Superman. Questo altro Superman è il famoso Superman, quello di King Don't Come, di Brandon Root, che come avevo supposto, perché da quello che dice durante l'episodio, il Superman, col costume di King Don't Come, di Brandon Root, è lo stesso Superman di Superman Returns, perché lo so, perché è lo stesso Superman del Superman di Christopher Reeve, perché il Superman di Brandon Root dice, dopo che per una vicissitudine è stato costretto con la magia, con l'inganno dall'ex Luthor di Terra 38 a combattere con il Superman di Terra 38, quello di Tyler Root, e poi appunto viene scongiurata presto questa minaccia, Superman di King Don't Come dice, sai, non è la prima volta che combatto con una versione alternativa, che divento cattivo e combatto con una versione alternativa di me stesso. questo è successo in Superman 3. E voi direte, ma come, ma come cavoli, Superman Returns non era un seguito ideale a Superman 2 di Christopher Reeve che cancellava Superman 3 e Superman 4 perché erano qualitativamente brutti? Sì, a quanto pare sì, lo hanno introdotto in questo modo, ma dato che anche Superman Returns non ha fatto tutto questo successo sperato, diciamo che Superman Returns si potrebbe collocare come un Superman 2 e mezzo nell'ipotesi in cui esistano Superman 1, Superman 2 con Christopher Reeve, Superman Returns con Brandon Root, Superman 3 e Superman 4 con Christopher Reeve. In questo caso ci potremmo spiegare che dopo Superman Returns ci siano stati appunto Superman 3 e Superman 4 e dopo ancora ci sia stato un fattaccio che ha reso questo Superman il campione della verità, ovvero quello che lui stesso dice nell'episodio che il Joker di questa terra ha pensato bene di uccidere con il gas tutta la redazione del Daily Planet. Quindi questo Superman ha perso la sua Lois Lane, ha perso Jimmy Olsen, ha perso il suo Perry White, ha perso tutte le persone care con cui lavorava, con cui viveva. Ed è per questo che questo è il Superman che ha perso più di tutti ed è per questo che è il campione della verità. Quindi diciamo che c'è una fine ingloriosa per il Superman di Christopher Reeve, di Brandon Root, ma c'è una fine ancora più ingloriosa, se così vogliamo pensare, del Superman di Clark Kent che si presume abbia avuto una decina, una ventina d'anni di avventure dopo l'ultima puntata di Smallville per poi appunto rinunciare ai suoi poteri e vivere in pace con la sua amata Lois. Per carità è una bellissima fine, però di questi dieci anni trascorsi come Superman non abbiamo visto una cippa. Sarebbe stato bello se ci avessero accontentato a vedere finalmente Tom Welling nei panni di Superman per più di un nanosecondo, ma così non è stato. Peccato, peccato, peccato. Torniamo a Batwoman e Supergirl che finiscono in Terra 99 dove fa un'altra parte molto importante il Batman di quella Terra. È un Batman invecchiato, è il Batman che indossa l'esoscheletro di King Don't Come, ma a differenza di come molti sostenevano non fa parte della stessa Terra dove c'è il Superman di King Don't Come, sono due terre separate. Tra l'altro in questo caso ho sbagliato le terre, non ho indovinato il numero. Io avrei supposto che il Batman interpretato da Kevin Conroy, ovvero il doppiatore di tutti i cartoni animati di Batman dal 92 in poi e della serie videoludica di Arkham, Arkham Asylum, Arkham Origins, Arkham Knight, Arkham City, pensavo che fosse appunto Terra 92, appunto dato che c'era il cartone che era partito nel 92, invece è Batman di Terra 99. Ma meno male, meno male che non è Batman di Terra 92, perché purtroppo questo Batman, diciamo che ha perso molto il sentiero, molto, molto, molto il sentiero. Senza dire troppo, diciamo che è come se Batman di Superman o il fumetto Ritorno al Cavaliero Oscuro sia finito come si poteva temere all'inizio di questo fumetto, ovvero dove Batman e Superman si scontrano e la cosa finisce molto male, molto, molto male. E in tutto questo molto, molto male Batman, il Batman di Terra 99 ha perso totalmente la speranza, ha perso totalmente il suo codice morale tipico di Batman, tant'è che Batwoman non riconosce il cugino e non per le rughe, ma proprio perché ha perso quello che lo rendeva Batman, di conseguenza se ne vanno da questa Terra. Però questo cammino rende Batwoman degna di essere lei, il campione del coraggio. Quindi abbiamo il campione del coraggio, il campione della speranza, che è Supergirl, il campione della verità, che è il Superman di Kingdom Come. Abbiamo ancora altri campioni da trovare, il totale dei campioni sono sette. C'è una terza side story, che mi stavo dimenticando, quantomeno che non ho annunciato all'inizio, che fondamentalmente è la gestione del lutto per Oliver Queen. Vediamo Sarah Lenz, vediamo la figlia di Oliver Queen, e vediamo Barry Allen, Flash, che cercano delle terre alternative dove esistono ancora dei pozzi di Lazzaro, perché i pozzi di Lazzaro di Terra 1 sono stati tutti chiusi da Talia al Ghul, di conseguenza non si possono utilizzare. Vi ricordo che il pozzo di Lazzaro, nell'Hurroverse, resuscitano le persone, a differenza dei fumetti, che in realtà non resuscitano proprio, ma si limitano a prolungare la vita. sono un po' come i fagioli di Balzar del mondo di Batman fondamentalmente, ma non ti fanno tornare dai morti, però in tutte le altre versioni differenti dal fumetto originale fanno anche ritornare in vita, e quindi vabbè, tant'è che. Però sono tutti chiusi, quindi trovano una terra dove c'è un pozzo di Lazzaro attivo per poter riportare in vita Oliver. Sara Lenz si preoccupa che anche la sua anima torni con il corpo e quindi ingaggia John Constantine. E nella terra dove c'è questo pozzo di Lazzaro attivo c'è anche una mini comparsata di Jonah X che quasi non riconoscevo perché non aveva la sua cicatrice, perché è un Jonah X molto giovane. Qua vediamo che la figlia di Grinarro procura in anticipo scusate, la cicatrice tipica a Jonah X. Però appunto un cammè un po' gratuito, ma è stato bello. Mi stavo domandando come mai avessero speso così tanto tempo per far risuscitare Oliver, a che senso ha se è morto così con onore nella puntata precedente. Pensavo che fosse appunto un'elaborazione del lutto, invece effettivamente Oliver torna in vita, torna in vita, ma John Constantine non riesce, almeno in questo episodio, non riesce a riportare la sua anima. Quindi abbiamo un Oliver Queen ancora in preda alla pazzia che dona il pozzo di Lazzaro. Probabilmente questo Oliver pazzo può servire per salvare il multiverso, non lo so. Lo vedremo nel prossimo episodio. Spero che questa cosa abbia comunque un senso, dato che ci hanno speso dei minuti preziosi. Perché dico minuti preziosi? Perché comunque, giustamente per tutta la carne al fuoco che c'è, molte scene sono molto veloci. Quindi John Constantine viene introdotto così, vediamo anche John X introdotto così gratuitamente. Lo stesso Barry Allen, che per carità, siamo nella puntata di Batwoman, quindi non c'è un grosso approfondimento su Barry Allen, però ce n'è abbastanza perché entri al volo Iris West, parli un po' con Barry del lutto subito appunto di Oliver Queen, non c'è però un grosso approfondimento. È molto comico vedere quando John Constantine fa il rituale per cercare di portare l'anima di Oliver nel corpo, come Barry White stia tutto lì così quasi a pregare, mi ha ricordato un po' un JD di Scrubs, non so perché, comunque era proprio fuori luogo in quel contesto, però vabbè, in generale l'episodio mi è piaciuto, mi è piaciuto più del primo episodio perché i Kamei erano molto più centrati, soprattutto quello che aspettavo io, cioè quello di Superman, di Brandon Root, che mi è piaciuto tantissimo. Voglio vedere adesso come si proseguirà nel terzo episodio. Il terzo episodio sarà nella stagione 6 di Flash, quindi vediamo se creeranno le atmosfere di Flash. Con questo è tutto, io vi saluto con l'inchino e con l'imbuto, commentate sotto cosa vi è parso di questo episodio. Arrivederci.